Al centro del Consiglio Comunale a Teramo anche la questione relativa al progetto di ampliamento dell'Istituto Zooprofilattico. In particolare l'intervento prevede di utilizzare l'area dell'ex mercato coperto per allargare la propria sede storica con uffici e un centro informatico. Nel progetto sono ricompresi parcheggi sotterranei e altri interventi destinati alla collettività, che però non convincono in primis i consiglieri di maggioranza Maurizio Verna. Io penso che la proposta fatta dallo Zooprofilattico in una transazione che deve essere fatta assolutamente, transazione deve essere fatta perché ci sono somme importanti, poi ci sono modi e modi di fare la transazione. Io sto spingendo perché è una mia idea di cui sono convinto che lo Zooprofilattico debba andare nel polo agroalimentare che è stato creato qualche tempo fa, di cui la politica ha programmato e poi realizzato delle opere importanti come la facoltà di veterinaria, l'istituto di agraria. Insomma c'è un polo che deve crescere e si deve ampliare e deve andare lì. Lì verrà realizzata la parte degli stabilimenti e di tante altre strutture dello Zooprofilattico. Io penso che invece ampliare l'istituto e a Campobario sia uno sbaglio urbanistico, perché appunto questi tipi di insediamenti, se non solamente la sede storica e centrale che può e deve rimanere in centro città, ma tutto il resto, i laboratori in primis, devono andare in un luogo adeguato alle proprie funzioni. Le proprie funzioni sono i luoghi direzionali già predisposti ai strumenti urbanistici. Grazie. 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 Grazie.